E-Boltek, società specializzata in soluzioni di document and process management, coglie l'occasione della fiera di SMAO, che è la più importante fiera di settore informatico, per presentare un nuovo modulo del proprio prodotto Arxivar, denominato ArxDrive. ArxDrive è un modulo che permette l'utilizzo dei documenti in una forma tradizionale, quindi da file system, sfruttando però tutte quelle caratteristiche tipiche di gestione delle riservatezze, di sincronizzazione dei dati, di regole di utilizzo tipiche di un software di gestione documentale workflow come Arxivar. Quindi coniuga quelle che sono le funzionalità tipiche di strumenti di file sharing tipo Dropbox, con tutte quelle rigole definite invece tipicamente in soluzioni di document and process management come Arxivar.